A chi ti percuode sulla guancia, porgi anche l'altra. A chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Dà a chiunque ti chieda e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avete? Anche i peccatori fanno lo stesso. Anche i peccatori fanno lo stesso. Anche i peccatori fanno lo stesso. Grazie a tutti.